E ora il consueto collegamento in diretta con la nostra redazione di Lecce, dove vedo già pronta Maria Teresa Carrozzo. A te la linea Maria Teresa. Grazie mille della linea, benvenuti ai nostri telespettatori. Siamo in diretta dalla redazione di Lecce di Antenna Sud. Affronteremo una tematica che periodicamente noi affrontiamo sia nei servizi dei nostri speciali, quella delle situazioni all'interno delle carceri pugliesi e non soli. Di fianco a me il segretario regionale OSAP Puglia, Ruggero D'Amato. Grazie mille segretario per essere venuto. Grazie a lei e alla redazione della sensibilità e dell'invito. E un saluto a tutti i telespettatori. Ci vediamo periodicamente. Non possiamo dire che la situazione migliori all'interno delle carceri in Puglia e Basilicata. Guardi, le do una notizia in anteprima. Ieri, nella prima tarta mattinata, c'è stato un tentativo di rivolta nel carcere di Foggia, dove grazie alla professionalità dei colleghi e con l'ausilio anche dei colleghi della Polizia di Stato sono riusciti a contenere la situazione. Ma è una polveriera, il carcere di Foggia è una polveriera. Come è una polveriera del carcere di Bari, il carcere di Lecce, che ormai conta un personale risicato e un sovraffollamento, uno dei più alti in Italia. Lei periodicamente scrive proprio i direttori del carcere, e nei scorsi giorni e nelle scorse ore ha scritto anche al direttore Susca del carcere di Lecce. Qual è la problematica? La problematica è che hanno fatto una circolare ministeriale che quei detenuti facinorosi che creano disordine e, diciamo, inveiscono anche fisicamente contro i colleghi, devono essere spostati. Ma quello non succede. E la soluzione qual è, secondo lei? La soluzione è che lo Stato faccia lo Stato, faccia delle norme precise, dia la possibilità a una stragrande maggioranza della popolazione detenuta che si vuole rinserire, di potersi inserire, con il lavoro, con cose esterne al carcere. E i facinorosi, invece, deve far capire che lo Stato c'è e il rispetto delle leggi bisogna farle. Quindi non bisogna abbassare la guardia come negli ultimi tempi c'è stato fatto. E questi detenuti devono essere spostati dal loro habitat, diciamo, criminale, e portati lontano, e lontano anche dalle famiglie. Così capiscono che con i disagi forse riescono a rintegrarsi nella società. Tante sono le emergenze, le necessità primarie che lei ha portato avanti, dicendo quella inerente alla polizia penitenziaria. Ci dica in modo sintetico la primaria da affrontare. La primaria da affrontare è il personale. Noi abbiamo una carenza di personale in Puglia, che si attesta intorno alle 1.000-1.100 unità, e a livello nazionale 12.000-13.000 unità. Quindi se non c'è, come dire, materia prima, poliziotti che possono operare, quelli che restano fanno 13-14 ore e vivono una situazione di disagio lavorativo. E noi siamo i nuovi schiavi di Stato. Questo io blancio un messaggio al Presidente Meloni, al Sottosegretario del Mastro, di mettere mano alle carceri, non di annunciarlo soltanto in spot pre-elettorali. Grazie mille al Segretario regionale OSAP Puglia, Ruggero D'Amato. Grazie mille. Grazie a lei. Un saluto a tutti i colleghi. E ripassiamo la linea in studio. Grazie Maria Teresa.